Un percorso di quattro incontri con medici, ossetrici, vigilatrici e specialisti in tecniche utili alla mamma e al neonato per prepararsi all'evento della nascita in maniera innovativa. E' il corso di accompagnamento alla nascita, il primo, presentato questa mattina alla Clinica Santa Rita di Atripalda. Quattro appuntamenti gratuiti dall'8 al 29 ottobre per accompagnare la donna dal concepimento al postpartum grazie a consigli e tecniche di medici ed un maestro di yoga. Un corso come ce ne possono essere tanti ma la Clinica Santa Rita ha particolare attenzione alla qualità del servizio prestato e quindi qual è la particolarità? La particolarità consiste soprattutto nel coinvolgere tutto il personale inerente all'ostetricia, cioè ostetrici, neonatologi, ginecologi e le puericultrici, ad un accordo tale che possono seguire insieme, accompagnare insieme la mamma e il bambino. Quindi la differenza sostanziale tra altri corsi è che tutto il personale viene coinvolto contemporaneamente e tenta ad operare insieme nella struttura.